Oggi, se noi prendiamo il cudo di un lavoratore del 2013 e uno del 2009, il 15% o il 10% di retribuzioni in meno lo vediamo subito. Sospensione degli effetti della contrattazione di secondo livello, che vale circa 130 euro in meno al mese su stipendi da 1.300, taglio dell'80% dei premi aziendali o riduzione di 3 o 5 euro dello stipendio all'ora. Da qualunque parte la si rigiri, la vicenda dell'Electrolux vede un'azienda che per rimanere attiva chiede sacrifici contrattuali ai suoi dipendenti. Nel Bassanese c'è chi osserva la trattativa della multinazionale svedese con gli occhi disincantati di chi in realtà vicende del genere ne ha viste, in piccolo, anche nel proprio territorio. Come è successo di analogo nel Bassanese? Qualche azienda che ha tagliato i superminimi, che non li ha adeguati, che li ha in qualche caso anche ridotti, è successo in qualche caso anche questo. C'è chi definisce quello dell'Electrolux un ricatto ai dipendenti, chi si preoccupa più in generale di una regressione nelle condizioni contrattuali dei lavoratori. Si tratta sicuramente di un ricatto, perché l'impresa chiaramente magari ha bisogno di ridurre i costi e l'unica cosa che fa è quella di ricattare i lavoratori. I lavoratori sono obbligati o comunque tendono ad accettare, perché l'alternativa è la perdita del posto di lavoro. Ma questo succede perché noi abbiamo un sistema infrastrutturale che è assolutamente indecente. Un'impresa che voglia tentare di ridurre i costi non ha altro argomento da affrontare che quello delle retribuzioni, perché può pensare di ridurre la burocrazia? Ce lo sogniamo. Può pensare di ridurre i costi della giustizia? Non esiste. L'unico argomento su cui le aziende possono fare pressione è questo. E noi siamo da questo punto di vista assolutamente in disaccordo con le imprese su questa cosa. Sì, ecco entrambi sino ad un'imputare al simpatico.